Ciao lettori, oggi vi consigliamo Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow Vi piacciono i videogiochi? Nostalgici degli anni 90, questo libro è per voi Parliamo di un'epoca in cui doveva ancora uscire il Game Boy ma in cui i floppy erano già obsoleti Sadie e Sam diventano amici sin da piccoli in circostanze non proprio favorevoli Quello che li unirà sin da subito è la passione infatti per i videogiochi Giocare insieme infatti rappresenta un grandissimo atto d'amore, dice Sam Seguiremo le loro vicende fra bassi molto bassi e alti molto alti in un romanzo che tenta di essere spensierato ma in realtà è molto più profondo di quello che sembra Se nel vostro piccolo siete anche un pochino nerd immergervi in questo mondo di pixel e console vi piacerà un sacco Lo consigliamo perché forse, per la prima volta in assoluto consiglio un libro senza tragedie No, non è vero, ce ne sono a bizzeffe E voi, lo avete letto? Quali sono i vostri videogiochi preferiti? Scrivetemelo nei commenti Grazie